Ciao! Quella che vedete è una poltrona progettata nel 1949 da Franco Albini, un progetto incredibile fatto da un architetto incredibile. Qualcosa che ha richiesto quasi 15 anni e la perfezione di questo oggetto la si vede negli incastri, tra una parte e l'altra, e negli spessori che aumentano nelle parti più delicate. Questa incredibile poltrona si chiama Luisa.